In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 25 ottobre ultimo scorso, si conferma la sospensione delle gare dei campionati dilettantistici giovanili a carattere regionale, provinciale e locale fino al 24 novembre prossimo 21. Per quanto attiene lo svolgimento degli allenamenti, si resta in attesa dei necessari chiarimenti che il competente ufficio per lo sport del Ministero fornirà alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Sin qui il DPCM, per cui tutti i campionati dilettantistici dall'eccellenza della terza categoria, sono momentanamente sospesi, ma probabilmente si potranno svolgere gli allenamenti. Ritornando all'eccellenza, oltre al campionato, mercoledì 29 ottobre, si fermano anche le gare di Coppa Italia e tra queste salta quella programmata tra Acragas e Folgore all'Esseneto. Il campionato di eccellenza riprenderà dopo il 24 novembre immediato il commento di Sandro Morgana, vicepresidente dell'LND, che ha anche dichiarato di essere positivo al coronavirus. I dilettanti hanno fatto tanti sacrifici per ripartire, compreso il rispetto del protocollo, concordato con il governo. Non avrei fermato i tornei regionali, forse avrei chiesto ai presidenti delle singole regioni di decidere. Credo che questo stop sia stato fatto per permettere all'Italia di ripartire nel periodo natalizio. Attualmente, sottolinea sempre Sandro Morgana, sono positivo al coronavirus, ma sto bene e sono asintomatico. Si dovrebbe giocare invece in Serie D e lo sottolineiamo con il condizionale anche perché a decidere lo stop oppure meno, saranno direttamente le società interessate che attendono l'esito di un apposito sondaggio proposto dalla LND. In caso di proseguimento si trasmetterebbero le gare in diretta streaming. Grazie a tutti.